Le impronte ritrovate sul fondo fangoso e l'avvistamento di lupi da parte di due giovani lasciano pochi dubbi sull'attacco predatorio avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 luglio lungo il canale Albani. Mentre proseguono gli accertamenti su quanto è accaduto, i cittadini si chiedono se la strage di Anatidi poteva essere evitata. Domanda che abbiamo girato all'associazione Progetto Ugo che insieme alla Lupus in Fabula e al CB Club Mattei si è presa cura di tutti gli esemplari, associazione che porta il nome del cigno nero, simbolo della colonia, particolarmente amato e ammirato da fanesi e turisti. Anche lui purtroppo ritrovato senza vita, aveva 13 anni. Presidente, c'è chi parla di una strage annunciata e d'accordo si poteva fare di più. Prevedere che i lupi potessero venire attraverso il gletto del canale, sì al limite, si poteva anche pensare però non era tra le protesi più probabili. Io colgo l'occasione in questo caso per dire che insomma anche quello che si è detto sui social dove tutti accusano tutti e si cerca il colpevole, chi incolpa l'Enel perché ha levato l'acqua, chi il comune perché è una vigilia, chi incolpa anche me perché dice se non ce li mettevi non ci sarebbero stati e non sarebbero morti. Voglio dire invece che cercare le colpe sarebbe bene invece cercare di andare oltre, di vedere cosa si può fare per il futuro perché questo non succeda più. Perché in effetti vedere il canale Albani in questo stato mentre potrebbe essere un gioiello per Fano visto che è un biglietto da visita dove ci passano tutti, sotto gli occhi di tutti è brutto. Considerate che questo canale è stato fatto, sono visto negli archivi della biblioteca federiciana alla fine del Settecento per abbellire la città di Fano. Nel Settecento facevano queste cose, non è possibile che nel 2000 noi facciamo diventare la vergogna di Fano. Per cui quello che io chiedo all'amministrazione comunale e credo anche che il sindaco stamattina che ha intenzione di fare qualcosa mi ha detto che vediamoci avrei in mente di proporgli, di fare proprio una vera e propria osi naturalistica quindi trasformarlo dalla schifezza di oggi è un qualcosa di bello. Ma questo lo dico indipendentemente dal fatto che gli animali li vogliano rimettere o meno. Secondo me con gli animali è più bello, poi se non li vogliono rimettere va bene. Vedranno. Ma in caso ci penserete voi a ripopolare il canale? Se loro sono d'accordo certamente, io non ho problemi. Io all'inizio quando lo feci, lo feci tutto, ho spese mie, non chiedi niente a nessuno. Ultimamente invece, devo dire lei anche per spezzare una lancia in loro favore, che invece lei ha preteso di partecipare alle spese di manutenzione per cui a noi in questo momento preciso mantenere gli animali non costava nulla. Però con un po' di acqua possiamo dire che si sarebbero salvati? Un po' di acqua sì, certo, sarebbero salvati perché un lupo anche con solo 40-50 cm d'acqua non sarebbe sceso se così è stato lungo il letto del canale. Però c'è da dire che qualche predazione poteva succedere ugualmente. Certo, una mattanza come quella che abbiamo visto no, perché gli animali ovviamente non avevano via di scampo in quel modo. In concreto, quale potrebbe essere il progetto? Il progetto potrebbe essere fare una specie di grande lago, diciamo così, dove l'acqua ovviamente è molto più ferma, dove viene trattenuta molto di più in modo da poterla conservare, visto che la diga a valle c'è. Si potrebbero anche piantare delle piante acquatiche che magari filtrano l'acqua, la puliscono, la rendono più limpida. Ci si potrebbero mettere, un'altra volta gli animali, si potrebbero curare meglio gli argini anche da un punto di vista floreale. Si potrebbero anche sfruttare per esempio la sede dell'Enel alla liscia che non è in questo momento servita a nessuno perché non ci sta nessuno per una cooperativa, che ne so, di giovani che si prende la briga di allestire, non so, delle barchette, delle canoe che possono servire per percorrere il canale anche dentro quando è possibile, basterebbe munire gli usufruenti di un salvagente in modo che se anche cadono in acqua non succede niente e sarebbe anche un'attrattiva, io credo, potrebbe essere molto più bello. Il costo non credo che sarebbe molto, poi se ne potrebbero studiare altri, io adesso questo non so se è possibile, ovviamente bisogna sapere quali sono i contratti con l'Enel, io so che scadrà la concessione nel 2029, non so se l'Enel la rinnoverà o meno, per cui per carità ci possono essere anche degli impicci, però certo il canale così non si può tenere, questo è sicuro, Fano non merita una roba del genere e quindi bisogna prendere i provvedimenti, adesso quest'estate è andata così, la prossima deve cambiare, dopodiché io credo che finiscono anche tutte le polemiche, le colpe e tutto quanto perché se il canale è bello siamo contenti tutti.